L'Università di Foggia sempre più presente a livello nazionale, riconoscimenti che giungono di anno in anno tra i migliori atenei in fase di sviluppo. Infatti dalla completa autonomia l'Università di Foggia viene spesso citata, invitata e premiata per la formazione, ricerca, assistenza rivolta agli studenti immatricolati e anche Erasmus. Ora il riconoscimento vede in primo piano proprio il rettore dell'Ateneo Dauno, Maurizio Ricci. Per la prima volta all'interno della Giunta della CRUI, Associazione delle Università Statali e Private, appare il nome di un rettore dell'Università di Foggia. Durante un'assemblea straordinaria sono state rinnovate le cariche. I nuovi eletti sono il rettore dell'Università di Sassari, Massimo Carpinelli, il rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il professore Pasquale Catanoso, il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio e appunto Maurizio Ricci. La medesima carica tra gli etni pugliesi l'ha ricevuta solo il rettore dell'Università del Salento, Vincenzo Zara. Non lo considero un riconoscimento personale, ha commentato il rettore Ricci, ma un ulteriore riconoscimento per il sistema universitario regionale pugliese e per l'Università di Foggia. Inoltre aggiunge, metterò la mia esperienza al servizio di queste cause di tutte quelle che ho sempre rappresentato, come la necessità di migliorare una pluralità di profili attinenti per promuovere finalmente uno statuto del sistema universitario, ridimensionando i molti vincoli burocratici e amministrativi che condizionano lo sviluppo delle università in Italia. Un'elezione è quella di Ricci nell'aggiunta della Cruy, che così va a tenere alto il nome dell'Ateneo Foggiano.